Mi presento, sono Casatta Mirko, R&D Screen per Screen Research e Audio Screen Company. Quest'anno in fiera presentiamo tre nuovi prodotti, due per il brand Screen Research e uno per il brand Audio Screen. Nello specifico alle mie spalle potete vedere l'Infloor Screen, uno specifico schermo da incasso che è sviluppato per aprirsi dal basso verso l'alto e coprire un po' il posizionamento davanti a eventuali mobili in soggiorni e specifici salotti. Lo schermo è composto da una copertura mobile elettrica che si apre nel momento in cui lo schermo incomincia a sollevarsi dal mobile stesso. Lo schermo ha una tensionatura laterale con brevetto Screen Research e un tessuto acusticamente trasparente. Questo ci permette di posizionare le casse acustiche dietro il tessuto e permette di far passare il suono in maniera perfetta. Il secondo prodotto è un prodotto specifico per installazioni a soffitto ad incasso. Il prodotto che è alle mie spalle è un MS3, è lo sviluppo di un vecchio prodotto già presente a catalogo e le caratteristiche di questo schermo sono l'opportunità di installarlo a soffitto e a completa scomparsa. Anche questo presenta tessuti acusticamente trasparenti e la tensionatura tipica Screen Research laterale. Le caratteristiche che sono state presentate quest'anno con questo prodotto sono i nuovi tappi, le nuove coperture a calamita che permettono un'installazione molto più rapida e veloce. Il terzo prodotto del brand Adioscreen è un prodotto ad incasso e nello specifico questo prodotto può avere dei top molto elevati, caratteristica che viene sempre più richiesta adesso nell'installazione a soffitto. È un prodotto molto particolare perché riesce a garantire una planarità anche in caso di top molto elevati.